gentili telespettatori buona giornata laura boldrini l'ex presidente della camera lancia un appello bisogna intensificare il monitoraggio in mare e intervenire prima che accada il peggio quindi l'italia è sommersa dal dal maltempo flagellata dal maltempo un viadotto è crollato in liguria le strade si sono trasformate in fiumi la liguria è bloccata non è collegata con con le altre regioni è ritornata come dice il governatore toti al 1930 crollato un viadotto un altro si è si è formata una voragine molti viadotti in liguria sono assolutamente pericolanti perché sono lì da 65 anni il loro il loro tempo vitale finito nel senso che il loro ciclo di vita è finito dicono gli ingegneri sono fuori da quello che è l'ultimo termine quindi sono tecnicamente pericolanti perché ormai obsoleti ormai le strutture non sono più atte per reggere il peso di quasi nulla perché hanno finito il loro ciclo di vita mentre intanto con tutta l'italia presa con questi problemi a laura boldrini sta pensando ai migranti in mare dice con questo maltempo bisogna prevenire le sciagure con bisogna cercare di avvertire prima queste persone prima che il tempo possa provocare dei naufragi quindi un appello che suona come una richiesta a fare attenzione al maltempo e monitorare le previsioni meteo per intervenire prima che il tempo peggiori e i migranti si ritrovino in condizioni difficili da affrontare a causa del mare mosso quindi laura boldrini vorrebbe un meteo ad hoc per aiutare i migranti in mare migranti e clandestini illegali che cercano di entrare in italia lei vorrebbe cercare con delle previsioni del tempo anticipate in modo da poter mandare delle navi in tempo prima che arrivi il maltempo e poterli aiutare ad arrivare in maniera illegale in italia intanto oliviero toscani che proprio stato scagionato dal giudice 15 giorni fa perché era stato denunciato da salvini per avergli dato del fascista il giudice ha detto che dire fascista un politico non è reato a un'altra persona forse sì ma un politico comunque fascismo è qualcosa di politico un movimento politico un partito quindi dare del fascista a un politico non si può ritenere reato però questa volta lui va ospite al alla zanzara ospitata alla zanzara e si scaglia contro il presidente di fratelli d'italia giorgia meloni e appunto l'esponente del partito democratico ex presidente della camera laura boldrini la trasmissione è una trasmissione radiofonica di radio la zanzara è su radio 24 il fotografo catalogato come radical chic ha fatto dei commenti a dir poco infelici alla domanda del conduttore cruciani giuseppe cruciani se preferisse trascorrere una notte di passione con giorgia meloni o laura boldrini in seguito di una calamità naturale che lo costringesse su un'isola deserta in compagnia delle due parlamentari toscani risponde ma direi con la scimmia che c'è sulla palma ci sarà una scimmia sulla palma o no una nuova genetica una nuova scimpanzerotta dice una battuta molto poco riuscita poi il conduttore gli chiede cosa ne pensa dei preti pedofili cosa farebbe lui a queste persone lui dice beh già dice poveretto intanto pedofilo prete è uguale a un pedofilo che non è prete sono tutti sullo stesso livello però dice già poveretto uno che vuol diventare prete vuol dire che ha già dei problemi qualche problema ce l'ha di sicuro e poi commenta i due giornalisti mediaset paolo del debbio e mario giordano comunque dei giornalisti possiamo li possiamo definire di area politica di centro di centrodestra perché i due conduttori gli dicono apposta per farlo irritare che parlano di questi due conduttori e gli dicono hai visto per caso la fotografia con giordano del debbio e salvini insieme e toscani ci casca in pieno perché non è vero e dice mamma mia fascisti questo è il minimo non è neanche più un insulto quello che vi dicevo prima che il giudice ha detto dire fascista non è un insulto del debbio e giordano conducono trasmissioni banali fanno ridere sono dei comici ovviamente fanno ridere lui perché quello che dicono non è non è non è quello che pensa lui quindi tutti quelli che non dicono quello che a lui fa piacere sono dei trasmissioni banali fanno ridere sono dei comici ma lui toscani qualche giorno fa era ospite anche in un'altra trasmissione si chiama morning show su radio caffè e ha sparato a zero contro il capo della lega matteo salvini e i suoi elettori salvini è stato letto da una maggioranza di bb no di no come diceva berlusconi dei che di chi vota comunista no vi ricordate no da una maggioranza dico di coglie puntini puntini no di gente che non ha più la sensibilità umana attenzione se c'è qualcuno di voi che vota la lega voi siete persone secondo oliviero toscani che non avete sensibilità umana poi c'è il rappresentante di questa maggioranza si esprime in modo disumano e il rappresentante di una disumanità quindi salvini si esprime in modo disumano ed è anche il rappresentante di una disumanità intanto fabio fazio o fazio fabio si esprime su twitter in una in una canzone si esibisce con una canzone alla fiera dell'est una un brano di angelo branduardi di tantissimo tempo fa credo che tutti conoscano alla fiera dell'est c'era un topolino mio padre compro io questa la conosco da quando ero piccolo però fa un po strano che fazio prende twitter e si filma e canta alla fiera dell'est forse anche lui a tratti si beve il cervello no il noto conduttore di che tempo che fa si esibisce in una personalissima versione di alla fiera dell'est dove inserisce sardine gatti e cani e il popolo del web vedere dice di tutti i colori vediamo qualche frase di questa sua canzone dice e venne il gatto che si mangiò la sardina che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi una sardina mio padre comprò il ritornello no poi la canzone continua dice e venne il cane che morse il gatto che si mangiò la sardina che al mercato mio padre comprò chissà cosa avrà voluto mai dire con chi sarà questo cane chi è il cane che arriva che si mangia il gatto e il gatto salvini che si è mangiato la sardina chi è il cane che può essere il pd strano momento 5 stelle no renzi chi può adesso in questo momento mangiarsi mangiarsi il gatto mangiarsi saldi salvini politicamente conte forse sarebbe conte il cagnolino che si mangia non diciamo cane ma il cagnolino che si mangia il gatto che si è mangiato la sardina che mio padre comprò probabilmente per fabio fazio gli è sembrata una cosa così comica che ha detto adesso mi filmo e la metto su twitter vedrai che è successo secondo me è tristissimo è veramente triste secondo lui diceva io guarda guardate che cosa mi sono inventato mi diranno che sono un genio non so perché di una tristezza così infinita che potrebbe rattristarvi il martedì e tutto questo dopo aver ospitato in trasmissione carola racchette indiscussa eroina della sinistra e quindi probabilmente lui si è si è gasato dice ho parlato con carola racchette il mio eroe adesso sono così euforico che canto anche in twitter che il gatto si è mangiato la sardina veramente veramente triste non vi posso ripetere gli insulti che ho letto nell'articolo perché verrebbe censurato il mio video per questo sennò ve li ripeterei tranquillamente non è che ho problemi a ripetere degli insulti però non si può in youtube le regole non permettono le parolacce o se ci sono parolacce censurano i video tolgono le pubblicità li mettono in fondo alla piattaforma ne fanno di tutti i colori quindi vi leggo solo alcuni che si possono leggere per esempio uno che dice uno spettacolo giornalistico indegno pure per una di quelle emittenti locali che in palinsesto hanno giusto solo le televendite con rispetto per le televendite ovviamente vi dice le televendite sono molto meglio di fazio che canta che il gatto si mangia la sardina su twitter e per dice con rispetto per le televendite ovviamente anche per le emittenti locali poi dice con tutti i soldi che ti freghi dovresti evitare di apparire più scemo di quanto dimostri trovatevi un lavoro serie tu e la scimmietta beh che dire queste esibizioni canore infondono una tristezza che entra nelle ossa come quel freddo che entra nelle ossa è una tristezza che ti attanaglie non ti lascia più non guardatelo non guardatelo è pericoloso per la vostra felicità grazie per avermi ascoltato non guardate fazio e vi auguro una buona giornata se volete iscrivervi al canale è gratuito e nella community trovate tanti sondaggi siamo anche su facebook teleitalia notizie dove ci sono gli stessi video che sono su youtube li potete condividere in youtube in facebook ovunque voi vogliate grazie per avermi ascoltato e buona giornata arrivederci grazie per avermi ascoltato e buona giornata 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 grazie per avermi ascoltato e buona giornata